La Edison SPA ha inquinato bussi e dovrà provvedere alla bonifica. Lo ha stabilito la provincia di Pescara, l'ente che secondo il testo unico ambientale è l'organo dello Stato preposto a individuare le responsabilità amministrative in materia che ha emesso l'ordinanza nella quale individua nell'azienda francese il responsabile, in quanto rete della Montedison, della contaminazione del polo industriale di circa 25 ettari. In 48 pagine la provincia traccia la storia del territorio, industrializzato e inquinato fin dal 1901 quando vi erano le fabbriche di armamenti la cui eredità è costituita da piombo e cloro. Negli anni 60 vivò poi il passaggio dall'economia di guerra a quella petrolchimica e ad oggi l'ente individua altissime concentrazioni di mercurio nei sedimenti fluviali del Tirino. Adesso si attende il passo del Ministero dell'Ambiente che dovrà chiedere a Edison di depositare il progetto di bonifica per poterlo valutare e approvare. Oltre il polo chimico dovranno essere bonificate prima o poi le tre discariche su cui per il momento è stato solamente posto un telo, tra l'altro smantellato in più punti. Le tre discariche in questione sono la Tremonti, di oltre 3 ettari, la 2A e la 2B, rispettivamente di 12.000 e 8.000 metri quadri. Nel frattempo nessun esponente politico ha mai insinuato che le aziende, che per decenni hanno sfregiato il territorio, dovessero cessare l'attività. Il polo industriale infatti dà lavoro a centinaia di persone e qui il ricatto è lo stesso a cui sono sottoposti i tarantini con l'ILVA, dover scegliere tra il lavoro e la salute. Una scelta questa che le istituzioni sembrano già aver preso, sulla pelle di tutti quei cittadini che risiedono in una delle aree più contaminate d'Italia.